Ciao a tutti, in questa puntata abbiamo il nostro primo ospite internazionale, da Caracas, il due volte campione del mondo in moto, una volta campione italiano e tre volte tedesco, quasi quattro, in auto, signori Gianni Cecotto. Allora Gianni, come va? Molto bene, grazie. E te? Anch'io. Allora, prima di tutto, tu sei venezuelano di origini italiane, quindi il tuo nome come va pronunciato? In spagnolo secotto o in italiano cecotto? Cecotto. Cecotto, benissimo. Ovviamente in venezuelano dicono secotto. Se la memoria non mi inganna, il ragazzo qui vicino a me è il pilota che si è più avvicinato all'impresa di John Sartis, cioè essere iridato sia nelle moto, nel caso di Sartis con la 500, sia nelle auto con la Formula 1. Avvento due mondiali con la Yamaha. Giusto. Il campionato italiano turismo o super turismo? Mi sfugge. Super turismo. Super turismo. E come dicevo prima, tre volte e quasi quattro il DTM, che sarebbe la controparte tedesca del nostro campionato turismo. Cominciamo dall'inizio. Sì, in Germania ho vinto due volte il super turismo, il GT e il DTM ci sono andato vicino. Ah. Eh, ne parleremo. Un fattaccio. E due volte la V8 Star, 2001-2002. Tu sei nato a Caracas, in Venezuela, ma tuo padre, Giovanni, era immigrato italiano dal Friuli. Giusto. E correva anche lui in auto e in moto. In Venezuela. È stato campione nazionale nel 1956. L'anno della tua nascita. Esatto. E poi negli anni 70 ho corso anche in auto. Quindi è stato lui che ti ha trasmesso la febbre della velocità delle gare? Direi anche della meccanica, perché ha sempre avuto officine meccaniche e io sono nato lì praticamente. E quindi anche tu hai imparato a fare il meccanico a tua volta? Esattamente. Da piccolino avevo sempre le mani sporche. E quindi tuo padre ha vinto il campionato nazionale in Venezuela in motocicletta classe 500? Sì, Fuersa Libre si chiamava, da 351 in su. E domanda, anche in Venezuela chi vinceva un titolo nazionale era un personaggio diciamo noto di prestigio come qui in Italia negli stessi anni era per Venturi, Grassetti, Ubiali? Beh, diciamo che c'era abbastanza seguito alle corse, ovviamente non a degli altissimi livelli, però c'era un bel numero di... Diciamo, nell'ambito nazionale comunque era un nome. Beh, sì, si era fatto conoscere. E questo ti ha potuto aiutare all'inizio della tua carriera? Cioè, essendo tu il figlio di Giovanni Cercotto, campione nazionale, ti ha potuto agevolare in qualche maniera? No, assolutamente no, zero. Comunque ti ha aiutato a diventare meccanico? Quello sì, ho imparato molto da lui. Allora, io so che a 17 anni hai iniziato per caso a correre. A 16 anni. A 16 anni. In Venezuela, sì. Per caso perché t'hanno spinto gli amici? Ma diciamo che avevo molta passione per le moto e infatti nell'officina di mio padre già a quell'età lì aggiustavo delle moto io per conto mio e per alcuni clienti, alcuni amici. Prima di compiere i 16 anni avevo chiesto, avevo già avuto altre moto, avevo chiesto a mio padre di comprare una Honda 750 Ford. Tanto lì potevi guidare qualunque moto a 16 anni appena mi davano la patente. Prima la guidavo senza la patente, ovviamente. Il mio padre non era molto d'accordo ma siccome già lavoravo in quel periodo e guadagnavo dei soldi, gli ho detto non ti preoccupare prestami i soldi che io un po' alla volta te li ridò. Infatti così è stato, il giorno del sedicesimo compleanno, patente e moto nuova, era una Honda 750. E alcuni mesi, un paio di mesi dopo, sono andato con la stessa moto a San Carlos, da Caracas a San Carlos, che sono quasi 300 chilometri, a vedere le prove che facevano una settimana prima dell'inizio del campionato di quell'anno. Alcuni piloti che sono andati a provare, sono andati anche loro per strada con la moto e a fine prove si sono messi a girare con la moto stradale, ho girato anch'io e ero lì con loro, avevo lo stesso passo. Infatti dopo un po' di giri che mi sono fermato, le boys che stavano già ricaricando tutto per tornare a casa, il babbo di Ferruccio Dalle Fusine, che era un altro pilota famoso e campione lì, anche lui, l'officina meccanica, è sempre amico di mio padre e appunto mi ha chiesto ma ti ho visto girare bene, corri anche tu la prossima settimana? No, assolutamente no e sono rientrato a casa quella sera, 300 chilometri, a Caracas, al mattino mi svegliono di soprassalto e mi dico come no, corro anch'io. Ah, proprio così? Così, durante la notte si vede che è scattata la scintilla. Quando si dice la notte porta consiglio. Esatto, allora vado di corsa in officina da mio padre che stava lavorando, dico senti, ho deciso di correre anch'io domenica, ah va via, mi hanno lanciato un martello, lasciami lavorare in pace. Vabbè, insomma io ho cominciato a preparare la moto, a togliere il faro, era l'unica che avevo, ho tolto il faro, ci ho messo la placca per il numero, dovevo fare la licenza, per fare la licenza mi serviva il permesso di mio padre. Perché eri minorenne. Esatto, e allora ho cominciato a rompere gli scatelli. Senti, ho bisogno della licenza, firma qua. Ah, va via, lasciami in pace. Insomma, andato avanti così fino al giorno che dovevo partire, no? Sono riuscito a farmi firmare la licenza e prima di partire mi fa, senti ma non hai una tuta, non hai niente. Ah, corro con i jeans. Corro con i jeans, ma sei scemo. No, va bene, chiederò a qualcuno se mi presta una tuta, quella figura che ce l'aveva una tuta da prestare. E insomma, poco prima di partire mi fa, Toh, vai a prenderti una tuta, credino. Ah, proprio così? Sì, allora ho trovato una tuta che mi stava anche grande, non l'unica che ho trovato. Però con gli anni la riempirai. E allora sono partito con questa tuta e ovviamente a moto stradale, senza faro, sono andato là, avevo il numero 217, perché i principianti ti davano il numero più alto. E niente, ho fatto le prove libere e poi alla partenza la mia moto era ovviamente grande, pesante. Io ho 16 anni, non ero neanche cresciuto del tutto, ancora piccolo, facevo anche fatica a montare su sta moto. Figurati a metterla in moto, perché bisognava metterla in moto a spinta. Sì, infatti uno dei commissari è venuto subito lì in partenza fa, io lo so che c'è un motorino a via metto, se ti vedo che lo usi ti squalifico. Pronti via, spingi, non avevo mai provato a fare la partenza, spingi, spingi, niente, ma siccome non avevo l'esperienza, acceleravo troppo, il motore girava, girava, fatica, e niente, quando non ce la facevo più, che stavo per mollare, ho chiuso il guasso e in quello è andato in moto. Adesso è un partito straultimo. Non vedevo neanche gli altri, cioè c'erano delle curve già subito dopo la partenza. Insomma, il fatto sta che dopo un po' di giri comincio a chiappare qualcuno, a passarlo. e dopo metà gara, tre quarti di gara, ero terzo. Si è spaccata la catena. Però avevo già passato quello che è venuto la gara, il quarto, perché gli altri due poi si sono ritirati. Dunque sarebbe stato un debutto vincente. Col voto. Esatto. E vabbè, e niente, comunque sono stato notato nell'ambiente, anche mio padre ha detto però è impressionato, si è andato bene, si è andato forte. Comunque, lascia perdere la moto. Ai 16 anni, aspetta ai 18, quando hai 18 anni ti aiuterò a correre in macchina, in auto. Ma per il momento lascia stare, la moto è pericolosa. E allora gli ho risposto, va bene, allora dai, a 18 anni mi aiuti a correre in macchina. Intanto corro in moto. Così faccio esperienza. E così è stato, ho fatto un'altra gara, sempre con la stessa moto, avevo cambiato solo lo scarico. Stavo per vincere l'ultimo giro, cioè è stata una lotta dura tutta la gara, perché c'erano dei lunghi rettiliniere a Maracaibo, dove c'era un altro pilota, anche lui esperto, con un Suzuki 500 da gran premio. E il rettilineo mi perdeva, cioè se ne andava. Poi in curva riuscivo a riprenderlo e anche a ripassare. All'ultimo giro ero in testa, c'era un tornantino prima dell'arrivo e lì mi sono trovato un doppiato che andava pianissimo e se mi fermavo dietro a lui l'altro mi avrebbe ripassato poi in rettilineo. Ciao. E insomma, mi sono buttato un sorpasso all'esterno ma c'era sabbia. E sono rimasto lì. Anche lì stavo per vincere. Vabbè, fatto sta che la gara dopo l'importatore della Kawasaki mi ha dato lui la moto per correre. Una 750 tre cilindri due tempi. Quella che era sempre su una ruota. Ogni volta che acceleravi e cambiavi era sempre difficilissima la guidare. Ho fatto un paio di gare ma sta moto aveva sempre problemi. Ho fatto un paio di terzi posti. Dopodiché Ippolito la Yamaha l'importatore mi ha messo a disposizione una 350 RD ma non quella il modello che era attuale non lo stradale no no quello che c'era in quel momento perché correvano gli altri piloti Ferruccio Dalle Fusine Betancore e tanti altri con le 350 ma quelle del momento è andata una un po' più vecchia portatela in officina arrangiti e preparatela vai a correre va bene grazie e ho cominciato con quella ero sempre lì in lotta per le prime posizioni ma tanto ormai il campionato era praticamente finito a un certo punto c'era l'ultima gara a Turagua che ero in testa ma con quella moto lì stare davanti ai più esperti con le moto più veloci era difficile infatti mi sono schiantato in un accordo basta finito il campionato lì l'anno dopo ho vinto il campionato in Venezuela ho vinto il campionato sudamericano siamo andati a fare qualche gara in Brasile in Messico e così e e lo stesso anno siamo andati anche in Giappone agli Yamaha Sport Festival dove tra l'altro ho conosciuto anche Pino Allievi della Gazzetta che seguiva le moto allora e niente da lì in poi le varie corse anche l'anno dopo che ho vinto di nuovo il campionato in Brasile e così in giro finché nel 75 all'inizio Ippolito aveva deciso di venire in Europa a fare qualche gara ovviamente non tutta la stagione perché non c'era il budget non c'era la possibilità e niente siamo andati al Porricar avevo le 250 250 250 350 che in moto private ci preparavamo noi cioè in moto da corsa ma quelle che potevi acquistare quelle da cliente non moto ufficiale esatto e niente in qualifica con la 250 avevo il secondo tempo dietro a Takai pilota ufficiale Yamaha tutto lo squadrone e in 350 avevo il miglior tempo l'ho fatto la Pori davanti a Canaya pilota ufficiale Yamaha e così pronti via a 250 ho fatto tutta la gara in lotta con Takai che aveva una moto più veloce all'ultimo giro sono riuscito a passare l'ho vinto la gara proprio la penultima curva in 350 pronti via c'era Agostini dietro a me ma gli davo un secondo passo al giro ho vinto tranquillamente la gara cioè il debutto nel mondiale 250-250 ho vinto tutte le gare davanti ad Agostini poi la seconda gara esatto quindi la tua prima moto non è stata la CB750 la tua prima moto in assoluto in assoluto avevo tu primo amore un ciclomotore vale vale ciclomotore che ovviamente figurati mi sono messo lì a truccarlo a fare come è giusto che sia come abbiamo fatto tutti poi avevo una mini Honda 50 quelle piccoline quelle con le ruote piccole si non so se era prima quella dopo l'altra più o meno poi un 175 Honda bicilindrica e poi la 750 ah quindi sei passato dal ciuccio alla bottiglia e invece la tua ultima moto cioè non necessariamente da gara l'ultima moto quella l'ultimo acquisto dici l'ultima moto stradale o da corsa l'ultima e nel 2000 2000 2000 2000 inizio di 2000 la Honda CBR 1100 XX Fireblade il Blackbird ah invece la tua moto preferita e qui puoi spaziare o quella che magari ti ha dato più soddisfazioni beh la 750 Yamaha la TZ che ha vinto il mondiale nel 78 quella era veramente una bestia difficile da domare però era la moto che mi piaceva di più proprio per la potenza la velocità quindi tu alla fine sei stato oltre che campione del mondo sei anche campione di Venezuela cioè in moto parliamo campione del Brasile no Venezuela Sud America nel 75 hai fatto anche la 200 miglia di Daytona la prima volta sì sì con la 700 moto dei clienti che quelle ufficiali erano 750 quella che potevo acquistare 700 e con quella avevo il terzo tempo in qualifica solo che sulla griglia di partenza già in linea lì pronti per partire e il commissario si è accorto che gocciolava perdeva olio la moto allora mi hanno subito tolto dalla prima fila mi hanno messo da parte lì sull'erba e il meccanico ha visto subito una vitina lì un tubetto dell'olio del cambio che col cacciavite ha stretto un attimo perché non bastava stringerlo ed era a posto ho cercato di rimettermi al mio posto niente da fare mi hanno sbattuto all'ottantesimo ottantesimo c'erano due gruppi i primi 40 partivano prima dopo non so 10 secondi partiva l'altro gruppo i secondi 40 per cui ero straultimo e è stata una bella una bella rimonta ho finito la gara terzo mi sono riuscito a passare Agostini mancando uno o due giri prima della fine si dice che hai fatto 74 sorpassi li hai contati? no no però mi ricordo che sono stati parecchi da lì poi dopo l'arrivo nel mondiale e la vittoria tu hai vinto a debutto all'anno di debutto il tuo mondiale 350 si esatto le prime due gare del mondiale e anche il campionato ero messo bene anche nella 250 potevo vincere anche quello però due o tre gare che ero in testa si è rotto un motore si è rotto qualcosa non so e mi sono ritirato allora nel mondo mondiale a quei tempi il paddock era diverso da quello di oggi che per dire oggi oggi si vedi per dire Lorenzo con le cuffie quell'altro concentrato non si può parlare invece ai vostri tempi tra piloti magari anche addetti al lavoro come fossero meccanici direttori di gara c'era più contatto amicizia si diciamo che era un po' più familiare era un po' più familiare la parola giusta era quella quindi uno dei famigli è diventato anche Barry Sheen eh il mio grande amico delle moto so che eravate anche dei diciamo gente vorrei dire che ci piaceva ridere e scherzare divertirci ecco eravate anche divertenti nel senso si narra di un gavettone fatto ad Agostini eh Agostini non era molto contento infatti lo prendevamo anche un po' in giro ma dopo si è vendicato che so va va sgonfiato le ruote oppure va fatto no beh diciamo che dopo col tempo siamo diventati anche buoni amici almeno io non sì non ho mai avuto niente conto di lui lui ovviamente dopo dopo la prima gara le prime gare che gli sono stato davanti non ero molto contento ma pensavo dopo un gavettone ah no quello ormai era abituato ah quindi era prassi per Agostini avere un gavettone da Barry Sheen e Johnny Cercano no è stata una unica volta sempre nel 75 ti ha corteggiato la Suzuki per stare in squadra sempre con Barry è giusto? a fine stagione sì dopo che ho vinto il mondiale mi hanno fatto un'ottima offerta ma io cioè cosa vuoi per per lealtà per amicizia lealtà riconoscenza per Ippolito più che altro che mi ha portato mi ha dato la possibilità di correre portarmi ai mondiali vincere il campionato tutto quanto ho deciso di rimanere con la Yamaha anche se appunto l'idea era quella di correre in 500 in 500 la Suzuki aveva la moto vincente e Ippolito è riuscito ad avere dalla Yamaha le 500 del 75 che non erano per niente competitive e avevano un sacco di problemi infatti la Yamaha non voleva neanche dargliele perché si era ritirato però si era ritirata dalla 500 perché non era la moto non ne hanno fatto una nuova e quella lì non era non era all'altezza e lui ha tanto insistito finché gliele hanno date ma è stato un disastro ovviamente come pilota come professionista è stato un grosso errore non non accettare l'offerta della Suzuki però d'altronde la vita è fatta anche di questo col senno di poi saremmo tutti bravi magari col senno di poi sarei cambiato il mondo anch'io chi lo sa allora poi dopo sempre l'anno del titolo 75 il primo titolo sei stato immortalato all'aeroporto con le stampelle fine stagione si a fine stagione quando sei tornato a Caracas all'aeroporto avevi una foto con le stampelle esatto era uno scherzo di Agostini o era un infortunio sì stato Agostini mi ha fatto lo sgambetto era un infortunio successo a Assen con la 750 anche lì bellissima gara ero in testa mi sono trovato un doppiato che mi ha tagliato la strada per evitarlo sono andato a finire nel fosso e mi sono rotto un piede te con i doppiati andavi male comunque sì li odio durante gli anni in Yamaha la tua figura ricordava un po' quella di Ghiarno Sarinen nel senso vabbè la moto bianca e rossa la tuta bianca e rossa però anche il casco tu e mezzeluna invece Sarinen andava all'indietro però anche quello bianco e rosso era un caso? no Sarinen era il mio idolo quel poco che potevo seguire in Venezuela mi piaceva come pilota eri un suo tifoso sì ed è stato l'unico anche perché dopo la sua morte sono rimasto male e dopo la prima gara che ho fatto ho detto vabbè adesso ho bisogno del mio casco per cui ho preso il casco e ho cominciato a fare il disegno di Sarinen sul casco e quando era pronto perché me lo sono ben iniziato io quando ero pronto per verniciarlo che l'avevo già tutto passato le strisce esatto scocciato e ho detto ma sì mi piace quella punta lì che va indietro ma devo avere il mio disegno inutile che coppia quello di Sarinen anche se è il mio idolo allora ho girato il casco e c'era sta punta davanti e ho detto ma sì ma solo una punta così si vede poco allora ne ho fatte due tipo corna ed è rimasto ed è rimasto quello fino alla carriera delle auto esatto nel 78 l'anno del mondiale 750 bisogna ricordare che le stagioni ridate del 750 sono solo tre e lui è stato il primo a conquistarlo giusto? mi pare che erano solo è probabile sì come campionato del mondo sì sono tre stagioni sì 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 78 79 forse 81 non lo so io me ne ricordo mi ricordo tre tre stagioni ok tu vincitore allora c'è cotto Steve Baker che subentrò un infortunio forse quando vinse lui la 750 e poi il terzo adesso mi sfugge Pons può darsi può darsi comunque nel 78 si dice che la Yamaha la Yamaha favoriva Kenny Roberts e Katayama forse può darsi Kanaya Katayama sì Katayama Katayama forse si era già ritirato perché Katayama era pilota ufficiale della Yamaha Giappone sì invece Kenny Roberts Yamaha America ovviamente mercato americano era molto importante tirava di più però la storia che ho sentito io era che Johnny Cicotto metteva appunto lui il suo motore il suo blocco motore in quanto meccanico e quindi era lui che guidava la moto e poteva regolarselo andava via il sabato con una messa a punto e magari la domenica tornava e trovava un altro motore è successo anche è successo quindi magari non era prassi tutte le domeniche però è successo e il posto più bello dove hai corso? come pista? come pista sì come pista o anche pista semistradale come Matra come non so se hai corso in Abbazia stradali Abbazia no no il posto più bello dove ti è piaciuto il più Abbazia era la prima stagione dei mondiali sono andato là quando ho visto questo posto non volevo neanche correre da una parte c'erano le rocce dall'altra c'era il burrone il burrone con i i muretti con i cardraili no no ah no quei tempi c'erano i muretti i muri quelli in cemento solidi e niente fatto sta che al primo giro c'era un tornantino lì hanno fatto un mucchio ci sono rimasto anch'io in mezzo e è finita la gara non mi è dispiaciuto più di tanto e diciamo che le piste cittadine così non mi sono mai piaciute tanto anche se ho vinto per ecchie gare anche in queste piste le piste veloci con curvoni veloci quelle amavo molto infatti mi piaceva molto il poricard che è stata la prima dei mondiali Imola che ho vinto tra i duecentomiglia Imola e Daytona è stata impressionante perché è la prima volta che sono salito sul sul banking sul sopraelevato era impressionante prima volta che arrivavo con le velocità a 300 e passa all'ora la pista mi sembrava un imbudo si si un imbudo cioè si vedeva stretta la dicevo è questione di abitudine ovviamente però si le piste più veloci mi sono sempre piaciute c'è stato qual è il duello se c'è stato che ti ha dato più gusto anche se magari non sei arrivato davanti che ti verrebbe che oggi diresti mi è piaciuto quasi quasi lo rifarei se c'è stato si duelli ce ne sono stati tanti ma direi che la 200.000 di Daytona che ho vinto nel 76 è stato un bel duello con Roberts che sono riuscito a stargli davanti chi ti ha dato più filo a torcere? piloti ce ne sono stati tanti battaglie tante so Roberts direi che è stato uno dei più dei più forti però giustamente come dicevi tu Yamaha America lui aveva le Goodyear le aveva solo lui unico pilota e cioè aveva aveva anche dei vantaggi vabbè certo c'è qualcuno con cui avresti voluto misurarti misurarti e non hai potuto perché magari tu sei uscito dal mondo delle moto oppure magari lui era già uscito oppure non vi siete mai incontrati non mi vedi in mente ovviamente i piloti che c'erano prima non so tipo Helodo nomi del genere sì li ho ammirati diciamo però non c'è mai corso non mi è mai neanche venuto in mente che magari potevamo correre insieme cambiano c'è o c'è stato qualcuno che ti assomigliava o diciamo o che ti ha ricordato te stesso negli anni ecco un po' mi ha ricordato Simoncelli un po' il suo modo i capelli il casco il modo di fare sì anche perché quando correva quando correva con Gresini bianco e rosso anche lui ha il casco anche i ricci sì qualcosa mi ricordava mi ha chiamato l'attenzione oggi vai ancora in moto poco hai idea o anche nella vita di tutti i giorni cioè vado ad alcuni eventi come sono stato la settimana scorsa a Spa o prima a Imola ma per strada poco anche perché a parte che viaggio parecchio far chilometri per cui ho bisogno di spazio per portare borse roba questo casco non so quello che ho bisogno oppure la famiglia per cui con la moto andrei male ma poi per strada è diventato totalmente già una scocciatura in macchina con le moto mi sembra alquanto pericoloso c'è stato da qualche parte che hai detto io quando vado ai revival e mi trovo in mezzo a Steve Baker e Christian Saron un pochino mi vergogno lo hai detto cioè l'ho letto da qualche parte perché? no non è che mi vergogno anzi allora loro l'hanno sempre fatto e ci vanno quasi ogni fine settimana a destra e sinistra a girare con ste moto io lo faccio una volta ogni tanto allora per tanti anni non l'ho fatto la prima volta che mi sono presentato non so se era Dijon o Imola Imola forse e sì ma sì forse un po' mi vergognavo perché andavano loro andavano e continuano ad andare come degli assassini io invece me la prendo un po' più calma però è successo appunto che dopo due o tre volte che ci andavo ci sono stato davanti non ero più forte di loro ma c'è una cosa che comunque non mi piace prima roba con le moto vecchie che sono le moto di allora ah beh sì in quei pochi raduni quei pochi giri che ho fatto ho avuto dei problemi due volte mi si è bloccato il cambio una volta perdeva olio una volta ho visto Agostini che ha perso il pignone della 750 che se si bloccava alla catena lì faceva un bel volo sono tutte cose che non mi danno proprio fiducia infatti tante volte non ci vado anche per quello evito di montare anche perché quando sei in pista e vedi gli altri che vanno ti viene voglia anche a te e ogni giro vuoi andare un po' più forte però sai le moto non mi danno fiducia anche le gomme le gomme che avevo per esempio fine settimana scorsa a spa ho anche fatto due traversi perché sono gommacce nella 750 soprattutto nella 500 riescono a mettere i cerchi da 17 con le gomme larghe anche le slick e tutto quanto invece quelle lì sono i cerchi da 18 strette perché il forcellone non è abbastanza non è abbastanza grande e non si trovano le slick non le fanno e allora sai è inutile cercare di andare a fare cosa i record li ho già fatti ne ho ancora ne ho ancora in passato quelli che fai adesso non valgono vuoi che vada a farli adesso i record non mi interessa se oggi fossi ancora in attività dove vuoi tu tra la superbike e la moto GP in qualsiasi categoria quale moto vorresti avere per correre? vedo che è una bella lotta lì fra Yamaha e Honda anche se alla fin fine è sempre un po' il pilota che fa la differenza infatti basta vedere Marquez quello che riesce a fare con la Honda è quello che è quello che non riescono a fare gli altri è quello che non riescono a fare gli altri però sai alla fine da fuori è sempre difficile giudicare e capire qual è il vero motivo certo che quello che fa Marquez è incredibile è incredibile è incredibile è l'unico che riesce a scivolare a cadere e a ritirarsi su e continuare senza fermarsi senza fermarsi però ti chiamassero ti dovessero chiamare e dire Johnny scegliti una moto e vieni a correre ma correre per gareggiare sai oggigiorno c'è un cambiamento molto importante da quando correvo io in moto che era elettronica che ovviamente fa la differenza come lo fa anche nelle auto in Formula 1 e la faceva già i tuoi tempi in Formula 1 anche l'elettronica si però si iniziava diciamo si iniziava per cui quindi è difficile cioè si oggi fanno delle pieghe incredibili entrano in curva cattronica ovviamente pilota qualcosa qualcosa la differenza la fa ancora però è più che altro il mezzo diciamo che conta molto se dovessi scegliere oggi la moto tra Honda Yamaha Ducati ma vedi adesso comincia ad andare la Suzuki è difficile è difficile perché anche a parte gli ultimi anni della Formula 1 che non fa altro che vincere la Mercedes ma anche negli anni scorsi da una stagione all'altra cambia tutto e cambia anche di solito il vincitore la macchina quella che vinci oggigiorno mi piacerebbe molto provare una di quelle moto lì però ti ripeto i record li ho già fatti diciamo che per iniziare magari comincerei io forse in te comincerei da una Yamaha che già sei di casa di casa anche si poi dopo se non ti trovi bene ce n'hai da scegliere certo passa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti